Gino Pasotti è ufficialmente cittadino onorario di Riolo Terme. Sabato 30 settembre la città d'acqua della collina Faentina ha infatti riconosciuto la cittadinanza onoraria al proprietario dello stabilimento termale. Per l'occasione familiari e dipendenti si sono dati appuntamente nel consiglio comunale creato ad hoc. È facilmente comprensibile il perché una città come la nostra che si chiama Riolo Terme pensi di concedere la cittadinanza onoraria a un uomo, un imprenditore che sulle terme ha scommesso ed investito molto. Gino Pasotti a fine degli anni 80 ha scoperto le terme e sulle terme da allora ha investito e continua ad investire risorse per mantenerle al livello in cui sono attualmente cercando sempre di crescere sempre di più. E per una città come la nostra è fondamentale aver avuto la fortuna di incontrare Gino Pasotti che sulle terme e su Riolo Terme ha scommesso e puntato tanto. Oggi è stata conferita la cittadinanza onoraria, che cosa significa per lei? Ho provato un'emozione straordinaria e poi in pratica penso che possa significare e dovrò e spero che significa una intesa che continui, un'intesa positiva per sviluppare questo paese che merita, merita. Io ho avuto la fortuna di avere ospiti alcuni americani che quando hanno visto Riolo, il paesino, sono rimasti e dicono ma Dio santo che fortunato che sei. Grazie. 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 Grazie.